Una storia che ha del comico se non fosse che di mezzo c'è una cagnolina che non riesce a ritrovare la sua famiglia. Mucca, si chiama così la protagonista, è una femmina di Bracco che il giorno di Ferragosto è inspiegabilmente salita da sola su un treno a Termoli fino a quando due ragazzi, qualche fermata più in là, si sono accorti di lei e hanno cercato aiuto per ritrovare il suo proprietario. Giunti a Pescara, Eliano e Costanza si sono rivolti alla polizia ferroviaria e grazie all'intervento del comandante Zaccone si è arrivati al nome, una donna residente a Roma ma al numero indicato sul chip nessuna risposta. Ora Mucca si trova ospite presso il Dog Village di Montesilvano dove Carmelita Bellini offre ospitalità a ben 150 cagnolini persi o abbandonati. Le ricerche continuano ma per ora sembrerebbe tanto che la piccola stia trascorrendo le vacanze al meglio. Il comandante mi ha contattata per sapere cosa fare, è stato contattato la polizia municipale dove non sono intervenuti e quindi abbiamo risolto diciamo con la tenacia del comandante che il cane ha il chip e risiede a Roma, i proprietari non siamo riusciti a trovarli nemmeno oggi quindi sono già diciamo due giorni e siamo in attesa di poterla restituire è una cagnetta, ha un nome molto originale, Mucca e qui niente siamo in attesa di poterla ridare tutto qui.